ciao a tutti ciao a tutte ben arrivati o bentornati per questo nuovo video come avrete visto dal titolo è un video in collaborazione con la simpaticissima amarillis che saluta cui mando un bacione del canale cuba libre e ho fatto questo video in collaborazione glielo proposto perché è grazie a lei se io ho conosciuto questi profumi che oggi vi mostro e di cui vi voglio parlare sto parlando di tutti questi campioncini che ho ordinato dal sito lpdo vedete questo è il marchio e sono profumi equivalenti buonissimi buonissimi equivalenti di marchi più famosi o comunque ispirati a marchi più famosi e avevo visto un video appunto di cuba libre sul canale di cuba libre dove ne mostrava alcuni ne parlava e mi sono incuriosita le ho chiesto e praticamente se voi andate sul sito magari vi lascio il link qua sotto loro vi mandano mi pare per 12 euro adesso non vorrei sbagliare il prezzo senza spese di spedizione un cofanetto con tutte le loro fragranze che sono 12 e mi è arrivato questo pacco con ogni fragranza vedete è bella grande a spray e arrivano 12 fragranze e loro nel foglio di benvenuto e dei saluti scrivono che sono sei fragranze maschili e sei femminili però invitano ad indossare questi profumi e a sceglierli in base alle sensazioni lasciando perdere il genere e questa trovo sia una cosa molto bella e molto attuale anche perché è inutile secondo me tanto dividere in generi secondo me se un profumo piace piace che ho usato per tanto tempo profumi maschili e quindi volevo un attimo farvi una review perché ho deciso di indossarne ogni giorno uno e capire quali erano i miei preferiti e mi sono andata a leggere anche le piramide olfattive ho cercato di capire sulla mia pelle quale nota olfattiva predomina perché mi piacciono perché non mi piacciono e quindi adesso vado a farvi una carrellata di questi profumi andiamo via veloci perché sono 12 se no qua il video dura un'ora allora partiamo mi sono preso ovviamente gli appunti per quanto riguarda le piramide olfattive perché sarebbe stato impossibile ricordarmi tutto e vi dico adesso ve li mostro uno per uno allora il primo che vi mostro è vaniglie persuasive e vi vado subito a leggere tutto quanto allora intanto questo qui vaniglie persuasive è ispirato a tabacco e vaniglia di tom ford è uno speziato caldo legnoso dolce vanigliato e le note sono tabacco note speziate fava tonca vaniglia frutta secca e note legnose allora questo qui è un nì nel senso che non è uno dei miei preferiti è senz'altro buono e anche la persistenza lo è solo che su di me prevale tanto la nota speziata proprio quando passano le ore si sente molto la parte speziata e io non sono molto amante di note molto speziate su di me non me le sento addosso sento anche la nota della vaniglia che va un po a diciamo a mitigare questa nota speziata però da me prevale comunque nota legnosa nota speziata insieme quindi questo qui non è tra i miei preferiti un profumo invece che mi è piaciuto tantissimo che proprio è pazzesco secondo me buonissimo è il mie load che si ispira al all'honey hold di montale e questo è buonissimo ma più mi piace di più dopo nella sua evoluzione che non subito appena appena spruzzato vi dico che profumo è allora è un floreale mielato dolce vanigliato coiato le note sono cannella miele paciulli note floreali ambra cuoio ode che è appunto il legno di agar agar vaniglia e muschio bianco questo qui mi piace tantissimo perché io su di me sento tanto l'accordo miele e vaniglia e su di me ha un risultato pazzesco cioè a me piacciono tantissimo mamma mia è proprio buono io sento proprio il miele e la vaniglia diciamo che sono le due note che su di me rimangono e mi avvolgono proprio quindi questo qui per me è assolutamente il mio profumo uno dei miei perché di questi me ne sono piaciuti veramente tanti e anche questa è una buonissima persistenza passiamo adesso al superb caffè che si ispira all'intense caffè è sempre di montale e anche questo è un profumo che mi è piaciuto e che adesso vi vado ad escrivere allora questo qui è uno speziato caldo vanigliato balsamico caffè ambra note floreali rosa caffè ovviamente ambra vaniglia e muschio bianco e allora questo qui allora la nota di caffè la sento ma non è non dovete immaginarvi di sentire addosso l'aroma del caffè la tazzina di caffè che può risultare magari particolare insomma per qualcuno è un accordo di note che fa sentire anche il caffè per esempio da me sento molto il mix tra la vaniglia e la nota balsamica e mi piace molto mi piace molto sulla mia pelle e diciamo che io la nota di caffè il sentore di caffè lo sento appena spruzzato poi va via 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 va scemando e rimane appunto balsamico vanigliato che a me piace tantissimo anche questo ha una buona persistenza e quindi anche questo lo metto tra i miei preferiti andiamo con un altro che è questo scusate la luce perché oggi non ho la ring light volevo fare con la luce naturale ma insomma questo qui che è rose sensuelle e che si ispira a roses mask di montale anche questo mi è piaciuto veramente veramente tanto questo qui è un floreale bianco muschiato e talcato le note sono rosa gelsomino ambra e muschio io sento molto il gelsomino il muschio e l'ambra contiene la rosa a me i profumi alla rosa dove si sente molto la rosa normalmente non piacciono tanto ma qui trovo che ci sia un perfetto connubio tra rosa e gelsomino e questo insieme me lo ha fatto veramente piacere tanto è proprio buono anche questo è molto avvolgente è molto brioso si sentono proprio i fiori questo qui è un altro che annovererò tra i miei preferiti invece uno che non è nelle mie corde è asci intense devo dirvi che comunque sono tutti profumi molto buoni anche perché insomma la persistenza non è per tutti uguale per alcuni ho notato che è dura per alcuni ho notato che la persistenza è maggiore per altri meno e quindi quando dico che non mi piace intendo che non incontri i miei gusti non che non sia un buon profumo è questo qui asci intense che adesso vi leggo allora questo si ispira a naso matto black afgano questo profumo qui ed è un balsamico fumoso aromatico verde le note sono cannabis note verdi resina note legnose caffè tabacco incenso e ode qual è il problema su di me di questo profumo che io lo sento molto pungente quando io adesso così io sento il balsamico sostanzialmente sento il balsamico sì quando lo vado a spruzzare dopo un po' su di me prevale la nota dell'incenso a me la nota incensata così non mitigata da altro non mi piace lo sento pungente e tra l'altro questo qui non mi è durato molto è andato via abbastanza velocemente quindi sulla mia pelle non dura quindi questo qui non è tra quelli che io preferisco allora un altro che non è tra i miei preferiti è eccentric ode è questo eccolo qua vedete un po' è un po' viola un po' rosetto come come liquido allora eccentric ode è ispirato al profumo che si chiama another ode di Juliette Zagan che io non conosco quindi vi leggo soltanto quello che ho reperito in rete allora questo qui adesso vi vado a leggere che tipo di profumo è questo qui è un orientale legnoso agrumato fruttato speziato fresco e muschiato le note sono bergamotto lampone ode muschio e ambroxan allora io sento il lampone questo qui se io lo annuso sento il lampone mischiato alla nota speziata il problema è che quando poi lo spruzzo su di me molto velocemente evolve in modo che si senta quasi solo la nota speziata e quindi come qualcun altro di cui vi ho già parlato quando da me prevale la nota speziata o la nota un ungente non incontra proprio il mio gusto quindi anche questo non è tra quelli che sarà non è tra quelli miei preferiti c'è uno che proprio quando l'ho spruzzato detto wow è boi intense che è ispirato a boi d'argento di dior e che è un talcato puro questo qua proprio un talcato adesso vi vado a leggere allora questo è talcato balsamico floreale ha tante note olfattive allora bacche di ginepro cipresso iris incenso mirra paciuli vaniglia muschio ambra note legnose miele e cuoio su di me sa di talco un talco non troppo dolcinato perché secondo me alcune note tipo il paciuli la mirra l'incenso vanno un po' a bilanciare questo dolce del talcato però questo qui è adesso me lo spruzzo è proprio come avere borotalco addosso come essersi a volte in una nuvola di borotalco questo qua proprio uno dei miei preferiti buonissimo e persistente io questo il giorno dopo lo sentivo ancora addosso passiamo adesso a cretus cretus si ispira ad un profumo che non conosco che si chiama creed a venti è un fruttato legnoso dolce coiato e agrumato e le note sono ribes nero bergamotto mela ananas gelsomino paciuli betulla e bacche di ginepro muschio muschio di quercia ambra grigia ambra e vaniglia ha un sacco di note questo profumo a me piace molto la nota che sento di più quello che mi rimane proprio sulla pelle è la nota muschiata e si sente tanto il paciulli su di me c'è questo proprio sentore di paciulli e muschio insieme mi piace molto devo dire però che questo cretus non dura tanto come altri questo qui va via abbastanza velocemente un altro che mi è piaciuto tantissimo è fleur noir che è ispirato a black orchid di tom ford questo qui veramente buono questo qui ha una durata pazzesca perché mi è durato anche tutto il giorno dopo ce lo sentivo ancora nel polso e vi vado a leggere è un floreale bianco agrumato legnoso balsamico dolce e anche questo ha parecchie note dentro ha bergamotto agrumi mandarino gardenia nera gelsomino ilang ilang loto orchidea note speziate paciulli e sandalo incenso e vaniglia vi assicuro questo qui è un profumo questo qui è un profumo allora si sente tanto tanto la nota grumata quindi un profumo frizzante allegro è un profumo adatto secondo me alla primavera estate fresco e io ho notato che su di me sento molto l'orchidea e si sente anche la punta di paciulli ha veramente delle note olfattive ben bilanciate secondo me e dura veramente tanto ha una durata di moltissime ore adesso vi mostro questo sexuel che è ispirato a un profumo che si chiama orgasm di michele francese ed è un legnoso floreale rosa talcato le note sono bacche rosse geranio pesca violetta francese rosa turca gelsomino egiziano paciulli muschio bianco ambra vaniglia del madagascar pino allora perché questo non è tra i miei preferiti allora a parte il fatto che su di me dura pochissimo credo che il problema sia che sento tantissimo la rosa come vi dicevo prima i profumi che dove in me spicca la nota rosa della rosa non mi piace come mi stanno in più sento proprio rosa e pino che sono due note che così a me non piacciono quindi questo qui di sicuro non lo utilizzerò e passiamo adesso ad un'altra passiamo a garçon libre questo qui è ispirato a un profumo che non conosco che si chiama com de garçon e questo qui mi è piaciuto abbastanza ha una buona persistenza mi pare sì questo qui è una buona persistenza questo mi piace mi ricorda alcuni profumi tipicamente maschili che mi piacciono vi vado a dire subito è uno spezzato caldo ambra legnoso balsamico aromatico vi dico subito le note di questo che sono allora aldeidi mandarino erba mate angelica noce moscata magnolia coriandolo cannella pimento carvi paciuli cedro incenso vetivè ambra e labdano che è una resina e questo qui a me piace perché sento tanto il vetivè a me piace come nota soprattutto nei profumi maschili il vetivè e sento anche la cannella e il connubio tra questi due mi piace molto anche questa una persistenza una durevolezza enorme perché anche questo qui ricordo di averlo sentito il giorno dopo perché me li sono segnati quelli che durano veramente tanto quindi questo assolutamente promosso per me vediamo all'ultimo che ho adorato e che è buonui questo qui nella confezione viola anche questo è buonissimo allora buonui buonui si ispira a dark purple di montagne ed è un fruttato rosa legnoso paciuli dolce contiene arancia prugna geragno paciuli ovviamente rose bacche rosse ambra grigia legno di teac che non so se si lega così e muschio bianco io sento tantissimo frutta e fiori in questo qui a me è piaciuto tantissimo questo qui è bello avvolgente anche questo e bello allegro diciamo come profumo e sento tantissimo la nota della prugna veramente si sente subito appena lo si spruzza si sente la prugna dopo evolve e spicca di più la nota grumata dell'arancio e del geranio assieme e quindi mi piace molto questo connubio di fiori e frutta quindi devo dire che questi profumi mi sono piaciuti molto hanno un prezzo abbordabilissimo perché mi pare che prezzo pieno in flacone venga 27 euro andate a vedere il sito se volete provarli anche voi potete fare l'ordine come ho fatto io di tutti i campioncini così avete modo di con poca spesa di provarli e di valutare quali sono poi vostri preferiti per orientarvi verso una scelta e volevo dirvi che vi arriva nel pacchetto anche un buono sconto da usare mi pare entro 30 giorni per comprare il vostro profumo preferito io ringrazio ancora amarillis per avermi fatto conoscere questi profumi amarillis del canale cuba libre vi invito andare a vedere anche il suo video vi lascio qua la schedina del suo canale e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao